Io veramente non so che livello di bassezza stiamo raggiungendo, ragazzi, c'è neanche col Genoa, neanche col Genoa, porca puttana Eva. Oggi ho visto una partita da serie D, da serie D, una bassezza di calcio assurda, assurda. Ragazzi, se io oggi vincevo, dicevo le stesse cose, perché io non ho la mentalità da italiano che guarda solo i risultati di merda. Io guardo le prestazioni, la Lazio quest'anno, e ripetiamo sempre la stessa storia, la stessa musica, sembra che queste cose le vedo solo io, che Inzaghi non le vede, sembra. Che ha il prosciutto davanti agli occhi, ma è possibile? C'è la Lazio, ripeto, quest'anno in campionata, a parte la prima partita col Cagliari, non ha fatto una partita a livello alto, medio-alto. Ha vinto delle partite con un Napoli, esempio, ha vinto, io infatti ve lo dissi, non esaltatevi, perché il Napoli era ridotto all'osso. Tu hai giocato in ripartenza e contropiede. Perché, caro Inzaghi, il 3-5-2, lo sanno a memoria, è un modulo da perdenti, porco zio. Finché funziona, hai ragione tu, ma quando non funziona, e non è una partita che non funziona, è sei mesi che non funziona, almeno partita in corso, cambialo il modulo, mi sembri Conte in Champions. Sei buono a fare un 4-3-3, a togliere quella mumia di Radu? Caso strano il gol subito dalla parte di Radu. Ma chi mi segue in live, che siamo in live tutte le sere, stasera no, da domani riprenderemo, sono cose che sa già, perché io cosa gli ho detto? Il Geno giocherà chiuso, e noi dovremmo essere bravi a allargare il gioco, ma quando hai i Marusi c'è soprattutto quel mongolo di Lazzari sulla destra. Ma che cazzo vuoi allargare, zio? Ma che è meglio giocare senza nessuno, è meglio giocare due uomini in meno. E Lazzari, ma avete visto che cazzo ha fatto? E guai, che critica Lazzari, Chiotto, ma corre, corre, vada a fare atletica allora, ha sbagliato sport. Ok, se gli piace correre. Ma avete visto l'azione del secondo tempo? Cioè, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Sto qua, si caga addosso, quando arriva davanti alla porta, plof, gli cade la merda alle mutande. Cioè, ma Lazzari, ma sei veramente scandaloso. Cioè, ma Cavande, era un fenomeno in confronto. Era un fenomeno. Prendiamo a Vier Garrido, gioca ancora Garrido. Ma dai, ma porca puttana. Prendiamo Romulo, ma non è che prendiamo Romulo, spostiamo Marusi a destra e Romulo mettiamo a sinistra. Ma Lazzari non deve giocare più, perché veramente, io sto giocatore, non so, il primo tempo, un cross bello, lui ha fatto l'inserimento. Una volta che si inserisce, ha ciccato il pallone. Cioè, ma ragazzi, ma sto qua, ripeto, si caga nelle mutande quando ha la palla tra i piedi. Ma come fai a giocare a sti livelli? E però corre, no, no, corre, no, no, ma anche sull'azione che ha sbagliato. Però l'ha corso, e beh, ha corso comunque, e beh, ma ragazzi, ma che... Ma poi, ripeto, allora, va bene, 3-5-2, la squadra, ok. A te ti piace giocare così, la squadra è costruita per giocare col 3-5-2, va bene. Ma se vedi, una volta preso il gol, il gioco del 3-5-2 lo sa hanno a memoria, ok? Palla su Milinkovic, imbucata su Immobile, ma se il Genoa gioca chiuso, la profondità non te la concede, hai capito? Quindi non lo troverai mai Immobile, ok? Poi che hai sedo se si mangia il gol davanti alla porta. Sugli esterni non puoi andare, perché hai due birilli sugli esterni, che è come giocare, ripeto, due in meno, e cambia modulo. Togli Radu, abbassi i terzini, fai 4-3-3. Lei, va Milinkovic, lui salverte, metti Pereira, 4-3-1-2. Pereira con Immobile che hai sedo. Ma Pereira, cosa mi rappresenta che me lo metti al decimo minuto, che mancano nove minuti alla fine? Ma, Izaghi, ma te le vuoi vincere queste partite o no? Cioè, spiegamelo, perché per rinnovare il contratto e fare delle merde così, allora cambiamo allenatore. Perché a me sembra che sto qua dorme, ragazzi. Cioè, dorme in panchina. Cioè, ma le vedo solo io, ste cose. E io sei mesi, che ve le ripeto. Cioè, Lazare è un anno che lo dico che una pippa. E adesso ve ne è stata accorgendo. Perché io non guardo solo i risultati. L'anno scorso la squadra girava. Quindi si notava meno l'errore del singolo, la mediocrità del singolo. Ma qua stiamo andando oltre la mediocrità. Il gol preso. Anche lì, vedi, palla persa, contropiede, gol. Ma Radu, ma avete visto cosa fa? Tenta di fare la diagonale mezz'ora dopo. Cioè, Radu, il tuo tempo è finito. Ma non è colpa di Radu, è colpa di Inzaghi. Basta. C'ha aiuto che sta facendo bene e non lo metti. Quindi, l'ho tito. Non comprarlo il difensore. Ma non comprarlo. Perché tanto fa giocare Radu. Poi Izzo oggi ha segnato. Quindi se tu vai da Cairo, mi dai Izzo? 30 milioni, ti dici, che anche ha segnato. Eh? Ma per favore. Io veramente sono rassegnato. Rassegno. Perché proprio non vedo la mentalità di cambiare le cose. Deve partire dall'allenatore, zio cane. Deve partire dall'allenatore. E poi, ragazzi, Murici. Ma io ve l'ho detto, Murici, gioca rallentatore. Ermo Viola. Ma avete visto come Murici fa? Cioè, gioca rallentatore. Vi faccio Murici. Come stoppa al pallone Murici. Di testa. Cioè, ma ragazzi, ma porca puttana. Ma ti sveli, Murici? Ma vado a giocare anch'io, eh. Vado a giocare anch'io così. Ermo Viola, Murici. Zio cane. Ma poi abbiamo il corridore. Quello che deve fare l'Atletica Lazzari. Ermo Viola. Il palo. Il palo nel campo, Murici. Io veramente. No, 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 no. Non ho parole, ragazzi. Sono allibito, 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 allibito. Cioè, ragazzi, sta squadra non è solo il problema alla difesa. Forse è solo il problema alla difesa. Dici, vabbè. Ma invece anche in attacco. Cioè, ragazzi, ma se non sei in immobile oggi. 60% di possesso palla. Ma che occasione hai avuto? Che occasione è quella? Dica, in sede, basta. Poi ci possiamo attaccare all'arbitro. Che magari ci poteva essere un rigore. Anche se a me di parlare di arbitri non serve. Ma parlare di arbitri, ragazzi. È solo una giustificazione per nascondere i problemi che abbiamo. Perché sai, se tu giochi male una partita, due partite, dici, vabbè. Può essere un caso. Ma se tu da inizio anno non hai fatto in campionato, in campionato. Perché in Champions sì. In campionato non hai fatto una partita buona. Fatti due domande. E cerca di darti una risposta. Ok? Ma a me, se a Macinzaghi, è ottuso. È ottuso. Va avanti per la sua strada. Non vede altre alternative. E quindi questo è... Se l'allenatore è ottuso, ragazzi, non vai da nessuna parte. Quindi adesso io non voglio fare più nessun proclamo. Dire adesso le devi vincere tutte. Perché è un mese che lo dico. Adesso le devi vincere tutte. Adesso col Genoa devi vincere. Quindi a me, vivo la giornata. Se vinciamo, dirò bene. Sarò contento per la singola partita. Ma non farò grandi... Grandi, come dire, percorsi. Perché so che la squadra non è in grado di fare tre, quattro vittorie consecutive. Non lo so. Avevamo adesso un calendario facile. Genoa, Fiorentina e Parma. Ho detto, dai, tre vittori. Niente, niente. E noi facciamo risuscitare i morti. Destro, visto. Ragazzi, sono veramente giù... Sono proprio giù deluso. Deluso, deluso, deluso. Nell'era in Zaghi, proprio è il momento più basso. E forse, secondo me, come vi ho detto, a giugno è ora di cambiare. Comunque, vediamo. Anche perché siamo una squadra logo e non una squadra vecchia. Like al video. Iscrizione al canale. Bella.